Musica Buongiorno amiche, sono Luana, un admin di gravidanza muore d'emozione. Oggi sono qui per recensire un prodotto. Il prodotto in questione è della titta Mamman. Mamman realizza fiocchi nascita, capoculla, lenzuolini e tutto ciò che può essere importante per la nascita dei vostri bimbi. Sono degli oggetti preziosi in quanto sono davvero unici perché nessun altro può avere, quando commissionato il lavoro, nessun altro può avere un lavoro uguale al vostro. Quindi è proprio questo che rende unici i vostri lavori. L'azienda Mamman è caratterizzata da due punti fondamentali. No alla bassa qualità, poiché tutti i prodotti realizzati da Mamman sono fatti con dei materiali molto costosi e scelti bene in quanto sono dei materiali completamente atossici che non possono regare danno ai vostri bimbi. Quindi anche nei lenzuolini, se sono dipinti, i colori sono completamente atossici e non si rischia un'irritazione cutanea nella pella dei nostri piccoli. Quindi la salute prima dei soldi. Un altro punto fondamentale di Mamman è no a pochi. Appunto i prodotti di Mamman sono costosi per le ragioni che ho detto in precedenza, però loro danno la possibilità a tutti di poter diventare loro clienti perché fanno dei piani di rateizzazione. Le persone dell'azienda Mamman sono delle persone abbastanza disponibili e sono pronte a soddisfare le vostre richieste. Allora, vi vado un po' a far vedere il prodotto che mi è arrivato completamente bellissimo imballato. La spedizione è super veloce perché l'hanno spedito e il giorno dopo mi è arrivato. Il prodotto è nella sua scatola ed è un cuore culla. Lo andiamo ad aprire. Allora, questo qua è il cuore culla grande, come potete vedere. Allora, io ve lo avvicino così potete notare tutti i particolari. Tanto forse è meglio il cuore culla della mia faccia. Allora, praticamente il disegno è completamente dipinto a mano. Potete notare nel leoncino tutte le sfumature e i chiaroscuri che sono bellissime rendono unico questo disegno come se lo stesse toccando davvero. Le cuciture è cucito e rifinito benissimo anche dietro, non solo davanti. Ve lo avvicino ancora di più ed è impreziosito, in questo caso, con tantissimi swarovski che appunto danno luminosità a questo oggetto e lo rendono unico. Potete vedere, si vede con la luce. Questo qua ha un cuore culla da appendere nella culla appunto oppure come fuori porta perché è bellissimo e può essere personalizzato oltre che con la frase anche col nome che di solito mettono qua insomma e può essere personalizzato anche con il personaggio che volete e la base dove va dipinto è di seta e anche i merletti appunto sono, i pizzi sono di seta infatti potete vedere sono davvero bellissimi come vi ho detto prima i materiali sono completamente adossici quindi se il bambino in questo caso no perché diciamo viene messo nella culla però nei lenzuolini ad esempio il bambino andrà a contatto con la faccia nel lenzuolino non succederà completamente niente nessun arrossamento e niente al nostro piccolo mettiamo la scatola nel frattempo vi invito a visionare la pagina facebook della nostra azienda Mamann e ora di seguito vi mostrerò le loro creazioni dei fiocchi nascita dei lenzuolini con delle slide e vi invito a visionare il nostro canale youtube Gravidanza Amore d'Emozione e la nostra pagina e il nostro gruppo chiuso Gravidanza Amore d'Emozione su facebook vi ringrazio per l'attenzione alla prossima Gravidanza Amore d'Emozione Gravidanza Amore d'Emozione Gravidanza Amore d'Emozione Grazie a tutti.